Ripresa economica migliore del previsto, clima di fiducia che risale, così come l'occupazione, mentre la politica monetaria manterrà una linea accomodante nonostante i rialzi dell'inflazione, che si continua a ritenere siano di natura transitoria. È un quadro prevalentemente positivo e incoraggiante, anche se non privo di problemi, quello che emerge dall'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia, a cominciare dalla dinamica di crescita, con il PIL che dovrebbe collocarsi intorno al 6%, un valore sensibilmente superiore a quanto stimato nel bollettino economico di luglio. Il miglioramento dell'economia si è tradotto in primavera in un deciso rialzo dell'occupazione, soprattutto a termine e delle ore lavorate, prosegue Banca Italia, ma anche qui non sono però del tutto superati gli effetti della crisi pandemica e permangono segnali di sottoutilizzo del lavoro. Guardando a tutta l'area euro, la crescita prosegue robusta e il consiglio direttivo della BCE ha confermato l'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria. Secondo Banca Italia, il direttorio BCE ritiene che il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli sia indispensabile per sostenere la ripresa. Questo a dispetto delle accelerazioni inflazionistiche che, secondo l'istituzione, è riconducibile ai rincari energetici e a fattori temporanei.